Eccoli puntuali come ogni Natale i mercatini in centro città. Fino al 10 gennaio 2014 saranno in Piazza del San Jacopo, Piazza Risorgimento e in parte di Via dell'Anfiteatro. Dal 26 novembre il mercatino sarà al completo, sono invece ancora in fase di montaggio le attese luminarie di Natale. Le due associazioni di commercianti terranno una conferenza stampa giovedì prossimo per dare tutti i dettagli. Dopo la spiacevole vicenda che ha riguardato la prima azienda incaricata, il sequestro delle luminarie, e tutto sembra essere risolto. Ci sarà anche un'interessante novità, il light design, una illuminazione particolare dei monumenti a retini. Ma dalla Conf esercenti non ci anticipano altro, soltanto il fatto che in occasione della fiera antiquare di dicembre la città brillerà come non mai. Anche Piazza Guido Monaco, dopo il successo della Festa del Cioccolato, prosegue il suo percorso di riqualificazione in attesa adesso della casetta di Babbo Natale. Nei weekend prima del 25 dicembre, Babbo Natale sarà lì, pronto a ricevere letterine e a farsi le foto assieme ai bambini all'interno di una vera e propria casetta. E poi ci saranno i mercatini delle opere dell'ingegno, in tutto 20 banchi fissi, che daranno agli a retini un'ampia scelta per i loro regali di Natale. E ancora artisti di strada, saltimbanco e persino dei ciuchini. Speriamo allora che Santa Claus esaudisca i desideri non solo dei più piccoli, ma anche dei cittadini, dei commercianti, insomma di tutti coloro che hanno a cuore questa città e che si stanno dando da fare per vederla sotto un'altra luce, per ora quella del Natale.